e benvenuti sul canale dei twin knights qui con nephron in questo video da barboni girato dalla macchina perché questo è il tempo che ho per girare questo video allora ragazzi ho appena finito di guardare la premiere di diablo immortal è un premiere durata una decina di minuti siccome noi siamo professionisti del settore ho preso degli appunti che sono molto precisi potete vedere la mia faccia mentre guardavo la premiere e degli appunti molto ordinati schematici e già tanto che ci capisca qualcosa io partiamo da dall'inizio diablo immortal vabbè diablo una cancellation dovreste conoscerlo più o meno tutti annunciato nel 2017 ha subito ha suscitato una diatriba infinita tra i giocatori senza via di mezzo e tra chi lo ha detratto da chi l'ho sostenuto quindi controversie di tutti i tipi personalmente pur sapendo benissimo che ci trattava di un metodo per ingannare l'attesa di diablo 4 ho sempre l'ho sempre detto un gioco con molto potenziale perché pensando a diablo 3 lo stile di gioco e come organizzato il gioco anche in endgame ben si sposa con la portabilità di un telefono di un tablet no quindi lo trovo valido su mobile nonostante alcune cose per chi ha giocato a diablo 3 ultimamente già solo il farming degli oggetti antichi non si sposa con con il mobile cioè troppo lungo ci vuole troppo tempo e in generale tutto il farming che non va tanto bene con l'esperienza d'uso mobile la parte meta delle caldesan io due season fa ero arrivato ad avere sette gemme caldesan livello 110 mi hanno portato via però nel tempo infinito cioè sul telefono non è pensabile giocare così tanto quindi questi sono gli unici dubbi perché per il resto come numero di abilità come come gioco come tipo di visuale secondo me si sposa bene con il mobile arriviamo quindi alla primissima novità incredibile di questa premiere cioè nel senso che comunque io non me l'aspettavo diablo immortal uscirà anche su pc ok questo ci rende sicuramente perplessi da una parte possiamo dirlo con certezza diciamo addio a diablo 4 nel senso che almeno nel breve periodo non vedremo diablo 4 non c'è neanche possibilità di vederlo con un diablo immortal che esce su pc d'altro canto però hanno annunciato sperate che prendo gli appunti professionali hanno annunciato cross platform e cross save questo è molto bello invece questo è molto bello fare un ecosistema che funziona sia su mobile che su pc secondo me ha dimostrato più volte di funzionare pensate a genshin impact comincio da pc continuo sul telefono in base a dove sono al gioco questo è molto valido lo renderà sicuramente molto fruibile non sappiamo molto sulle esperienze d'uso sul gioco in generale perché si è visto poco possiamo aspettarci dalle parole degli sviluppatori un'esperienza molto 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 classica comunque ho visto sei classi giocabili per adesso sistema di loot mob che richiamano abbastanza gli stili che abbiamo già visto quindi nulla di trascendentale non ho visto novità di rilievo della premiere non li ha mostrate se ci saranno ve lo faremo sapere restate con noi perché ragazzi diablo immortal ve lo porterò dopo due mesi di monopolio del canale da parte di let car con elder ring finalmente c'è un gioco di cui posso parlare anch'io e sono veramente contento di poter parlare finalmente continuiamo velocemente quindi abbiamo pc supporto ai tasti v asd per il movimento quindi oltre al momento classico con mouse quindi puntiamo clicchiamo ci muoviamo con le skills 1234 avremo la possibilità di muoverci con w as ed i sviluppatori lo sviluppatore il giapponese cicciottello non mi ricordo come si chiama che parlava di del pc della versione pc ha messo con una certa enfasi abbiamo aggiunto il supporto mouse e tastiera per il pc se mai avete aggiunto il supporto al controller perché mouse e tastiera su pc sarebbero obbligatori di base cioè nel senso comunque quindi supporto a mouse e tastiera supporto a v sd supporto a controller per quanto concerne il pc su mobile abbiamo il touch e il controller in base alle vostre inclinazioni quindi ci sarà subito supporto al controller dal primo giorno di uscita veniamo rapidamente alla data di lancio quindi gioco a una data di lancio ufficiale che a meno di slittamenti che non ci saranno sarà il 2 giugno del 2022 quindi dal 2 giugno potremo buttarci a cercare i frammenti della pietra dell'anima distrutta la taia in diablo 2 sì perché diablo immortal dal punto di vista di timeline si posizionerà tra diablo 2 e diablo 3 quindi incontreremo decartane e lo aiuteremo a trovare tutti i frammenti di della pietra dell'anima no che sono volati in giro per il mondo quando taire la distrugge alla fine del secondo capitolo e dovremo trovarli tutti e distruggerli molto semplice allora iscrivetevi al canale allora perdonatemi punto primo per la come posso dire quanto greggio questo video purtroppo questo come ripeto il tempo che ho l'ho fatto il prima possibile e il meglio possibile iscrivetevi al canale mettete un like e attivate la campanella perché diablo immortal sarà gioco che porterò sicuramente e di cui parleremo a lungo fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questa premiere se l'avete vista se non l'avete vista cosa vi aspettate dal titolo quali sono i vostri dubbi mi piacerebbe creare una discussione no parlarne insieme a voi vi saluto e ci vediamo al prossimo video è da nephron e dai twin knights